Ha aggredito la compagna Calci, Pugni e Morsi, continuando a colpirla anche quando lei, ormai stremata, è finita a terra. La donna, fortunatamente, nonostante le ferite, è riuscita a trascinarsi in piazza San Francesco e salvarsi. È successo nel centro storico a Retino ieri pomeriggio. Attorno alle 14.40 è infatti arrivata in sala operativa la richiesta disperata d'aiuto da parte della vittima. Gli agenti hanno subito capito la delicatezza dell'intervento e che non c'era tempo da perdere. All'arrivo delle volanti la donna era accasciata su una panchina con il volto completamente tumefatto e sulle braccia i segni delle percosse. L'aggressore, 46enne, a Retino, si era appena andato alla fuga, rifugiandosi all'interno dell'appartamento teatro della violenza appena consumata. Un equipaggio ha così prestato un primo soccorso alla donna, mentre l'altro si è messo alla ricerca dell'uomo che è stato trovato chiuso in casa. La donna ha raccontato agli agenti che il tutto era nato da una banale discussione sulla gestione dei figli e che i rapporti tra loro erano già burrascosi da tempo, numerosi gli episodi di violenza fisica mai denunciati e subiti dalla signora, sino ad arrivare all'ex bloato di violenza. Gli agenti della questura a Retina hanno così arrestato il 46enne condotto in carcere a disposizione dell'autorità giudiziaria, mentre la donna è stata trasportata all'ospedale in codice rosso dove è stata sottoposta ad urgenza ad un delicato intervento chirurgico al naso e alle ulteriori cure necessarie.